Oggi facciamo i scagliuzzi o scagliuzzoli oppure scagliuzzoli come preferite. Buonasera a tutti. Allora dicevamo gli scagliuzzi, gli scagliuzzoli. C'è una strada che da Santa Chiara porta a San Domenico Maggiore. Ovviamente questa strada, che cos'è? Spacca Napoli. Bene, in questa stradina sulla destra ci sono parecchie frigitorie. Una in particolare faceva anche gli scagliuzzoli, faceva cose meravigliose, tipo i zuppolel con dentro l'arga, faceva anche delle melanzane fritte, delle zucchine fritte, i churil, ma la sua specialità è gli scagliuzzoli. Di varie dimensioni, a volte erano dei cubetti, a volte erano delle striscette rettangolari, a volte erano proprio dei triangolini tagliati. Cosa sono gli scagliuzzoli? Praticamente polenta fritta. Intanto la ricetta, la numero 219 dal libro di Carola Francesconi, La cucina napoletana. Vi serviranno inoltre un recipiente nel quale cuocere la polenta, della polenta, un cucchiaino di sale, un cucchiaio di sugna, del pepe nero da macinare, un bicchiere per fare le razioni e un piattino nel quale mettere la farina che dovremo poi cuocere. Facciamo gli scagliuzzoli per due persone. Allora, un bicchiere di polenta, ecco qua, più o meno, tre bicchieri di acqua, corrispondono a circa 600 millilitri di acqua. Aggiungiamo il cucchiaino di sale e il nostro cucchiaio di sugna. Ora andiamo sulla fiamma e aspettiamo che l'acqua raggiunga l'ebollizione. Ora, una generosa macinata di pepe nero. Ciao! La sugna e il pepe che non trovate nella ricetta della Francesconi sono ingredienti che usa il mio amico Gigino, che è del 90 anni e che fa gli scagliuzzi da sempre. Quindi utilizzatevi questi ingredienti. L'acqua bolle, incominciamo a calare la polenta e dare una mescolata. La regola vuole che bisogna mescolare di continuo. Questa è polenta istantanea, quindi si cuoce veramente in pochi minuti. Aggiungiamo un'altra rate di polenta, così. Mescoliamo. Ecco qua. Ultima rata di polenta. Per la polenta vi conviene usare questo attrezzo, una bella frusta. Ecco qua. Deve essere abbastanza fissa, eh? Quindi non troppo liquida la polenta. Ci siamo. Perfetta. Ora prendete una spianatoia. Potrebbe essere anche fatta sul marmo. Io utilizzo però questa spianatoia. E mettete un filo d'olio. Quindi prendete la polenta e sbattitela proprio qua sopra, vedi? A così. Eccola qua. Ed ecco la nostra polenta ritagliata. Si sta compattando. E' ormai tiepida. Si sta compattando. Quindi la possiamo mettere in frigo. Ripeto. Tutta la notte. Siamo al giorno dopo. Allora, un coltello ben affilato e tagliate così la vostra polenta. Poi taglio a quadrati più o meno, eh? Questa parte che avanza faremo degli stick. Io li voglio fare come li faceva Gigino. Non erano un po' più grandi cecli, ma l'idea era questa. Vedete? Li tagliava a metà e otteneva dei triangolini. Invece questi li voglio tagliare a rettangolini, per renderli più croccanti basta passarli nella farina di polenta. Con gli avanzi della polenta, tagliate a fiammifero, otteniamo così degli stick. Infarinate anche gli stick. Siamo pronti per friggere gli stick, gli scaiuzzi triangolari e rettangolari, olio semiprofondo in un wok e poi carta per asciugare. L'olio non è ancora pronto perché non frigge. Ecco qua, ora sta iniziando a friggere intorno al manico della cucchiarella. e ora a friggere gli stick, pochi per me, eccoci, bastano pochi secondi e sono già pronti. Agli scaiuzzi, quelli seri, quelli ben regolari, voglio dare però un qualcosa in più, proprio un rametto e lo svarino a dare profumo. Continuiamo. Ecco qua, belli dorati. Possiamo tirare fuori. E ora passiamo agli scaiuzzi triangolari. Viva Gingino! E vai, vai! Quindi ho lo spessore di questi scaiuzzi, di questi scaiuzzi, io li ho fatti di circa un centimetro, eh? Però potete anche abbondare, farli anche un pochettino più alti, tipo un centimetro e mezzo, due centimetri. Ma così si cucinano perfettamente. Dopo averli asciugati perfettamente, li disponete in un piatto e dopo li salate, ah, così. E certo, li potevamo anche servire, rindano un bel cup di el, ma va bene anche così, guaiù. Buon appetito! Un rettangolino. Un bastoncino. Io sto mangiando tiepidi, mi vanno così. Beh, quel po' di sugna si sente. Il pepe da un gran sapore. quel po' di sale che ho messo alla fine è salta il vero scaghiuzzo triangolare un sapore strepitoso maronai il vero scaghi il vero scaghi il vero scaghiuzzo eccolo Grazie a tutti.